Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18 e 10 e ogni martedì alle 11 e 10. Con noi oggi Fabrizio Rosano, funzionario di CNA Cuneo. Bentrovato. Buongiorno a tutti, bentrovati a voi. Oggi parleremo di credito, nello specifico di un servizio che offre CNA. Si tratta della consulenza finanziaria e assistenza per il reperimento di fondi di finanziamento. Di cosa si tratta? Sì, è uno dei servizi che offre CNA alle proprie aziende associate. Si parla di credito e si parla di assistenza per il reperimento di fonti di finanziamento. In sostanza, reperimento di denaro liquido, quindi fonti di finanziamento sia breve sia medio e lungo, presso gli istituti bancari. Un servizio che come CNA offriamo gratuitamente perché riusciamo a parlare direttamente con gli istruttori delle pratiche, quindi a gevolare leggermente la velocità dell'impostazione delle pratiche. E cerchiamo di individuare con le aziende il prodotto più consono alle aziende in quel momento. Cosa si intende per prodotto più consono? Vuol dire, in primis, andare a vedere se si riesce ad individuare dei requisiti per poter accedere a dei fondi gevolati, sia in conto di interesse sia in conto di fondo di finanziamento, dopodiché a scalare sugli altri prodotti cercando di individuare il prodotto più conveniente, più veloce, più comodo, o comunque più utile all'azienda in quel momento. Chi può aderire a questo servizio e in base a cosa ci sono eventualmente dei costi? Sì, possono aderire ovviamente tutte le imprese associabili a CNA, quindi tutte le imprese costituite regolarmente e discritte, compartite live, energisti e imprese. Costi, come ho accennato prima, costi del servizio gratuito, ovviamente in base all'eventuale pratica che si riesce a distruire, ci saranno i costi relativi alla pratica specifica. E noi ringraziamo Fabrizio Rosano, funzionario di CNA Cuneo, per essere stato con noi. Buon lavoro, alla prossima! Grazie a voi per l'attenzione e buon lavoro!